adesso sono arrivato qua dopo mille rotonde e il navigatore ho trovato il fuoristrada adesso vedo dove sono le vacche al pascolo le vedevo dalla tangenziale non riuscivo a arrivare qua le ho trovate qua c'è già il ragazzo allora forza di fare ti ho trovato ciao ciao che dici raccontami un po qua ma tu fai pascolo vagante tutto l'anno ed estate dove vai 3 o 4 montagne qua cosa come razza cosa hai delle pezzate infettate bianche e nere bianche e rosse allora il cane che te la tira dentro e laggiù la tuta rosa chi è tua moglie con la moglie del rumeno a col bambino in braccio e vivono vivono in roulotte vivono in roulotte allora gli facciamo fare due parole a coloro bella questa vita no no vada te non puoi muoverti devi controllare non mettete i fili è tutto solo vicino alle strade rimettiamo dopo se no le molliamo dove c'è poco le molliamo e qua fai cosa fai linea vacca vitello linea vacca vitello mentre le manze quando vengono a partorire vanno in stalla che le aggiungiamo hai anche la stalla ok qua vicino qua va il brembo ed estate tra quattro montagne ma dove andate qua nella zona eccomasco e dopo qua in valle brembana e quanti capi hai pezzi sono una novantina e fatichi a trovare i pascoli o quest'anno c'è poco quest'anno l'erba è poca ma ecco la riesci a averla così o devi pagare devi pagare dei pari uno ti lascia così guarda che così vediamo anche il cane a lavorare anche quale chiamate fiume è il nome classico bravo fiume fiume è passare dalla fiume è passare la fiume modificate fiume 3 mi stavi dicendo che hai anche i cavalli, oggi non abbiamo tempo ma ripasserò a trovarti e le porti a casa qualcuno, una femmina così continua a fare i muli con l'asino con Mosà e li fai tutti da carne, i puledri, che sono in croci tra tpr e cavalli pesanti da carne. Adesso vado a fare due parole con il ragazzo rumeno e la moglie con la bambina mi è nata in Alpeggio e vivono i roulotte, c'è da fargli complimenti, i nostri non si adattano più, i giovani è impossibile non ci pensano neanche . guarda fiume come lavora mi ha detto di fare attenzione alla bruna perché ha partorito solo ieri c'è il rischio che mi carichi se mi avvicino troppo difatti mi sta già puntando è arrivato qua dal ragazzo e la moglie ciao come ti chiami e la moglie andrea la bimba maria che è nata in alpeggio ma che bravi complimenti cosa come ti trovi qua in italia bene ti piace ed è state fatte alpeggio quanti anni anche sei qua e ti parlavo del mio amico alfors il pulaier dopo gli telefoniamo non so di che paese sia comunque salutiamo tutti gli amici romeni d'italia l'ho messo in contatto con alforse il pull ayer alforse sei in diretta qua ti metto nel video l'abbiamo fatta abbiamo salutato il pull ayer mi siete capiti ok saluta gli amici romeni su dappertutto che questa è la vita sana ok ciao ciao buona proseguimento e poi ci vediamo magari quest'anno ciao 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 questa qua che ha il vitello veri ha caricato il ragazzo i primi giorni dice che sono tremendo questa è la pancia piena inizia a ruminare adesso vado a mangiare anch'io da qualche bar ragazzi vi lascio al vostro lavoro io ritorno in quel del piemonte ciao ciao buon buon san silvestro ciao 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 siete bella bianche andiamo a andare allora sediamo ancora andare nel padrock per il pranzo il toro ha il preservativo non è il periodo di monte non riconosce neanche lui che è il padrone ciao 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 i cavalli stanno per conto suo vengono a quarzo qua all'anno nord all'anno 7 vengono bene ragazzi io rientro in quel di cuneo ciao ciao ai prossimi video